Benvenuti in questo spazio dedicato alle interviste ai terapeuti di BR. Oggi siamo qui con la dottoressa Elena Gigante, che è una delle prime 26 terapeute di BR italiane. Benvenuta Elena. Grazie Diego, buongiorno. Iniziamo con una presentazione, iniziamo a dire chi sei e qual è la tua formazione e di cosa ti occupi. Allora, io sono una psicologa, psicoterapeuta ad approccio umanistico integrato. Da quasi un trentennio io svolgo l'attività clinica occupandomi sia di setting individuali che di setting gruppali e dal 2007 sono anche la responsabile della scuola di psicoterapia SIPG che è una scuola ad approccio gestaltico integrato di cui sono cofondatrice insieme a Raffaele Sperandeo e a Patrizia Bonvissuto e quindi la mia attività prevalente è clinica e di formazione ai clinici psicoterapeuti. Molto bene. E quindi ecco, poi dopo approfondiremo meglio questo approccio. Com'è stato il tuo incontro con il DPR? Quindi iniziamo dal primo impatto con il DPR. Allora, il primo impatto con il DPR è stato io sono una studiosa e anche una persona che appunto lavora da tanti anni con un focus sul trauma occupandomi nella clinica di disturbi di personalità e quindi ferite dell'attaccamento. Diciamo che una delle prime cose che mi ha attratto quando ho letto della formazione in DPR è stato proprio questo. Parecchie tecniche sul trauma appunto mi erano così, mi erano piaciute, mi erano interessate, ma non al punto tale da portarmi oltre. Mentre qui ho sentito, ecco noi seguiamo molto la nostra percezione, ho sentito che c'era qualcosa che mi appariva nuovo in qualche modo e si collegava molto comunque a un mio interesse, a una mia motivazione che è quello appunto del lavoro sul trauma dell'attaccamento. Quindi allora la nostra formazione, i primi siamo stati, il primo step è stato quello a Parma, quindi in diretta, in aula ed è stato bello, quindi a più livelli, è stato bello l'idea di andare a fare una formazione, un'ulteriore formazione insieme al mio collega, perché il primo step l'abbiamo fatto insieme a Raffaele Sperandeo, e di andare appunto in un luogo, in un posto in cui avremmo avuto da ascoltare delle cose che ritenevo potessero essere integrabili, ma comunque nuove, innovative. Quindi ecco parte da lì, da Parma, ed è stato molto entusiasmante, è stato molto interessante, tanto da portarmi ecco dal primo step che poteva essere informativo, poteva essere una base, una conferma di alcune cose, invece ad approfondire poi con livello avanzato e quindi essere qui, come dicevi tu, tra i primi terapeuti ad esercitare oggi il DBR in Italia, credo la prima in Sicilia tra l'altro, mi sembra che in Sicilia non ci fossero colleghi, al primo step, quello iniziale sì, ma poi successivo no. Quindi un incontro affascinante, mi viene da dire, che mi dava di qualcosa di nuovo e nello stesso tempo mi teneva, ecco rimanendo nei termini dell'attaccamento, mi faceva restare in qualche modo con un background, con qualcosa che sentivo appartenermi. Sì, bene, molto bella questa cosa. E dalla formazione avanzata del 2020, ormai è passato un anno, come è cambiata la tua professione quotidiana, la tua pratica clinica? È una bella domanda, è una bella riflessione questa, che chiaramente ho un po' fatto in questo periodo. Allora, premetto che nel mio modo di lavorare, quello che è il modello, come sono formata, e poi con le integrazioni dopo 30 anni nessuno è fedele ad un modello, il mio è già un modello integrato, ma poi chiaramente si continua ad andare avanti, quindi nel mio modo di lavorare, il centraggio, la presenza, la mindfulness, eccetera, sono delle cose che sono molto presenti, o in figura o in sfondo comunque all'interno delle sedute, per cui in qualche modo i pazienti a cui ho iniziato a fare sperimentare, a far conoscere il DBR, non hanno avuto un passaggio, come dire, brusco, da una modalità ad un'altra, ma sono stati accompagnati in qualche modo ad un approfondimento attraverso quello che poi appunto è il DBR. Il DBR che io ritengo essere è una modalità, una modalità terapeutica di grande agevolazione a chi sa effettuare la psicoterapia con i propri metodi, eccetera, molto agevolante perché mette in sicurezza, ecco un elemento che mi sento proprio di dire, tu dici ecco in questo periodo cosa puoi, cosa hai notato, che il mio lavoro con i pazienti con ferite e traumatiche importanti, spesso siamo, no, ovviamente, crediamo l'holding, la relazione, ma molto attenti, no, ad alcune cose, anche nel lavoro con gli stati dell'IVO, per esempio, che è un lavoro che io già, insomma, ho integrato da tanti anni. Il DBR mi ha dato questa marcia in più, ovvero sia di sentire, di mettere, da un punto di vista proprio fisiologico, il paziente in una situazione di sicurezza pur partendo da trigger, da situazioni potenzialmente molto intense. Ecco, quindi questa è la prima cosa che mi sento dittima quando mi dici come senti che si è modificato, non è che ho sentito ovviamente un cambio, un cambio, come dire, polare della cosa, ecco, ma ho sentito di avere nella mia cassetta degli attrezzi uno strumento molto utile per fare un lavoro attento, profondo e sicuro su quello che era un target di persone con le quali già ho esperienza di lavoro e ho sentito obiettivamente una facilitazione anche per i pazienti con i quali già lavoravamo da tempo su situazioni traumatiche e che magari, sai, vanno poi nell'intornismo, nella ruminazione, quindi in qualche modo ti senti di dover poi accompagnare, affermarsi anche un marker narrativo che diventa ripetitivo più che di rinarrazione, di risignificazione. Ecco, lì ho sentito che si poteva stare sul nuovo, agevolare il nuovo, agevolare quello che nel mio modello chiamiamo l'esperienza riparativa della persona in una maniera più semplice, ancora più semplice. Considera che io già lavoro sul qui ed ora. Sì. Io lavoro sulla presenza nel momento, il mio modello è un modello che ha come metodologia il qui ed ora, poi la spola con la e l'ora e il ritorno nel qui ed ora. Quindi c'era già qualcosa che il DBR mi ha assolutamente fatto sentire ancora più agevolata. Già, sì, sì, il DBR ha questa caratteristica di aumentare la sicurezza dell'intervento e aumentare ancora di più il senso della presenza nel qui ed ora. E anche parlando di lavoro sul trauma, oltre al livello di sicurezza, come accennato, c'è questo aumento di profondità, cioè di efficacia, lavorando più in profondità e più in semplicità, perché non stiamo sui circuiti corticali, quindi sulla narrazione dell'evento, ma stiamo su quelle memorie implicite ancora più profonde rispetto a quello che riusciamo a trovare in altri modelli, che è già magari un livello profondo. Alcune psicoterapie efficaci del trauma ci fanno già lavorare a un livello profondo. Ma il DBR va ancora più in profondità e semplifica ancora di più. E la Gestalt è uno dei miei orientamenti, sono sempre stato molto affascinato dalla Gestalt, prima di conoscere tanti altri metodi. Io per anni ho utilizzato ipnosi e Gestalt, come l'approccio erexoniano e quello più gestaltico. L'ho sempre trovato molto efficace, proprio nel, per esempio, non so, nella sedia vuota. L'ho sempre trovato veramente molto potente come tipo di approccio. Ecco, quindi, in quest'anno, tu hai fatto, anzi in questi due anni, tu hai fatto esperienza anche della componente online. Sì. Quindi, come è stato per te l'incontro con il DBR in una dimensione online? Questo, Diego, per esempio, è una cosa che, ecco, l'ho ritenuto un grande punto di forza. Allora, premettiamo che, come psicoterapeuta, umanistico, eccetera, no? Sul discorso dell'online, prima della situazione d'emergenza, ero molto lontana, molto distante, un po' anche, un po' critica, no? Rispetto a questa, questa modalità. E, chiaramente, le esperienze servono a questo, no? Noi lavoriamo con le esperienze, le esperienze servono anche ad acquisire consapevolezze diverse e quindi poter approdare anche delle cose differenti. Allora, a prescindere del DBR, questo periodo, e quindi il lavoro online, mi ha fatto scoprire veramente e dare valore a quello che può essere anche l'empatia digitale. E addirittura, no? Mi abbiamo portato poi avanti anche con la scuola una serie di studi su questo, per alcune categorie, no? Per alcuni disturbi, per alcune personalità. Addirittura, l'online si è rivelato di maggiore utilità, proprio perché ognuno resta nella propria casa, per cui c'è tutta una serie di cose che non stiamo qui in questo momento, non è il tema, però effettivamente questo c'era. E quindi il DBR, andando al DBR, in questa situazione che era una situazione particolare, laddove ho sentito che era buono, che era il caso di poterlo applicare, devo dire che ha avuto, è stato veramente importante. Addirittura ti posso dire che ho trovato più facilità ad esercitare il DBR online, nel senso che poi c'è questa visione, viso a viso, no? Veramente così vicina, poi in quel periodo, e in questo periodo ancora, noi in presenza siamo, no? Con le mascherine, con le distrutture, quindi una situazione tale che ecco, poi vedremo dopo, ma in questo momento, con alcuni pazienti con cui sto lavorando con il DBR, abbiamo proprio valutato questo, che le sedute di DBR online hanno una efficacia, una forza, mi viene da dire, e credo che il DBR sia una di quelle pratiche che io, psicoterapeuta, umanistica, eccetera, posso dire che con facilità possono essere applicate con tutto, ripeto sempre, il contorno, perché io non rendo mai avulsa una tecnica, una modalità, chiaramente siamo qui a parlare tra psicoterapeuti, quindi mai avulsa da quello che è tutto il resto, l'alleanza terapeutica, il creare un setting che sia in presenza o che sia online sicuro, ecco, con tutte quelle componenti che poi possono agevolare l'utilizzo, però sì, credo che il DBR sia assolutamente spendibile ed efficace, soprattutto, all'interno di un contesto di sedute online, assolutamente sì. Per quello che stavi dicendo prima rispetto alla Gestalt, ci ritorno un attimo, Diego, sì, dico, al di là delle tecniche, che sono quelle poi al grande pubblico, come dire, più anche conosciute, quindi, indubbiamente, la sedia calda, la sedia vuota, che anche altri approcci, nella schema terapia, quindi anche terapie di tipo cognitivista hanno incluso, perché effettivamente ormai la bellezza qual è? Che ci stiamo muovendo un po' tutti, al di là della provenienza della prima scuola da cui proveniamo, ci stiamo muovendo un po' tutti verso l'integrazione e, come dire, offrire al nostro paziente, offrire alla persona che si affida a questo il meglio che può esserci, può essere fatto mettendo insieme tecniche di approcci diversi, in modo un po' anche eclettico, ma professionale, o è anche con sistemi di integrazione, no? E credo che questo sia davvero molto importante, perché ci ha fatto vedere quanto chi lavora con il focus sulle emozioni non può tralasciare il livello immaginativo piuttosto che il livello cognitivo, no? O il livello sensorio-corporeo, ma la stessa cosa vale per chi parte dal comportamento piuttosto che dalla cognizione, perché l'uomo è un tutt'uno e quindi noi chiaramente non vogliamo, non possiamo parcellizzarlo perché siamo esperti in una cosa, ecco, piuttosto che in un'altra. Il DBR, il DBR è molto vicino, l'ho sentito molto vicino al modo di lavorare anche gestaltico, ma per che cosa in particolare? Per la presenza, per il radicamento, per questo qui ed ora da cui assolutamente si parte e dal quale si ritorna dopo avere fatto anche un viaggio sensoriale, un viaggio importante e si ritorna prepotentemente a questo radicamento quando poi si chiede al paziente al termine che ora sei orientato, com'è la tua percezione dello spazio e anche la nuova prospettiva. Quindi questo ciclo che nella gestalt viene chiamato il ciclo esperienziale o del contatto, ecco, io l'ho molto, Diego, ritrovato in qualche modo nella sequenza OTAs, per esempio, e mi ha molto affascinato perché mi ha riportato ad una mia, come dire, passione di sempre, che è quello di vedere le differenze perché sono importanti, ma anche i principi comuni nel fare il lavoro anche con metodi diversi, ma i principi comuni sono quelli. E in questo modo di lavorare che è molto neurofisiologico, per cui una parte che io ho integrato e sto integrando con molto piacere perché anche nella mia scuola, ecco, non sono io il docente che si occupa di questo aspetto, però veramente importante perché è proprio la presenza sensorio-corporea che permette poi quel viaggio, no? Nella seeking, nella raccolta di sensazioni, esperienze, finestre che si aprono e che non devono necessariamente essere narrate, spiegate, capite, e questo è il grande, secondo me, punto centrale di importante, ma che comunque vengono in elaborazione e prendono un posto diverso dentro di noi e attraverso la presenza, attraverso lo stare lentamente presenti. Mi riaggancio e ti ridò la parola ad un'altra cosa che ritengo importante che è per tutti noi terapeuti, per far questo e lasciare che il nostro paziente faccia questo in sicurezza anche grazie alla parte neurofisiologica, ma in sicurezza con noi, chiaramente è sempre importante che il terapeuta sia un terapeuta centrato, un terapeuta elaborato, un terapeuta lavorato, un terapeuta che possa stare con i movimenti, le lacrime, il tremore dell'altro e essere presente nel riagganciarlo a questo qui ed ora mentre la persona fa il lavoro. Ecco perché credo che sia una tecnica importantissima anche, e questo magari poi ne parliamo dopo, anche durante il viaggio dell'apprendimento ad essere psicoterapeuti, pur se poi per me è un lavoro psicoterapeutico che quindi giustamente va fatto da psicoterapeuti. Sì, sì, questa è una precisazione importante perché il DBR è veramente semplice da apprendere in quanto tecnica, dal punto di vista neurofisiologico è abbastanza semplice, ci vuole un minimo di consapevolezza con delle neuroscienze, però in sé la sequenza è veramente semplice anche dal punto di vista neurofisiologico. E la seduta, la conduzione di una seduta di per sé è molto semplice perché il terapeuta deve fare davvero poche cose. Quindi come tecnica si apprende molto velocemente, è molto semplice da utilizzare, i pazienti la vivono molto bene, però concordo sul fatto che più il terapeuta è formato e più è in grado di utilizzare al meglio il DBR, così come qualunque altra tecnica, nessuna tecnica funziona in modo magico, ecco. Prima di tutto lo strumento terapeutico è il terapeuta stesso sempre, e quindi chiaramente questo è un qualcosa che è importante ribadire. E su questo c'è tutto il discorso poi del diciamo di uno step successivo che è avvenuto. Dopo il tuo incontro con il DBR, dopo questo avvicinamento al DBR, ci sei entrata completamente. poi sei stata una delle terapeute che è andata avanti ulteriormente, noi ci siamo poi incontrati per fare degli approfondimenti, poi magari possiamo parlare anche un attimo di questo. Ecco, quindi sei una delle terapeute che è più formata attualmente in DBR e oltre a questo siamo andati avanti e ti è piaciuto così tanto che hai deciso di integrarlo direttamente all'interno del piano didattico integrativo della tua scuola proprio perché diciamo già adesso poi magari approfondiamo anche meglio l'approccio della tua scuola della CPG però la cosa interessante è che integrandola all'interno del piano didattico integrativo di una scuola di psicoterapia gli psicoterapeuti in formazione possono acquisire la tecnica del DBR ma integrata all'interno di un modello più complesso e all'interno di un processo di formazione del terapeuta stesso che quindi non va a insegnare il DBR in quanto tecnica a sé stante ma in una forma diciamo in un qualcosa di più organizzato quindi magari ecco ti chiedo di approfondire un po' parto Diego dalla prima cosa che mi sembra congruente anche rispetto a quello che comunque comunico sempre anche agli altri non solo gli allievi insomma i colleghi eccetera quindi che in un approccio esperienziale come quello della mia scuola è chiaro che nessuno diventa maestro di qualcosa se prima quel qualcosa non lo vive non lo esperisce non lo conosce dal di dentro motivo per cui per diventare psicoterapeuti facciamo la nostra psicoterapia e continuiamo a farla negli anni e nel tempo e chiaramente essere sempre consapevoli di cosa si esperisce di cosa si vive ecco quindi nella stessa identica situazione quando ho fatto il DBR e mi è piaciuto il DBR non avrei mai iniziato a sperimentare il DBR su qualcuno lo avrei vissuto come no e quindi non lo sentivo ancora ovviamente anni e anni di formazione su cose in cui ne sono competente mi sento sicura e quindi è chiaro che le persone che vengono da me mi sento di farle sentire al sicuro con la sicurezza che ho recepito e quindi sono stata la prima a dirti io voglio non fare delle supervisioni su questo ma voglio prima sperimentarlo su di me quindi voglio essere paziente in primo luogo che sperimenta su se stessa il DBR per sentirne quindi al di là della come dire approvazione della mente per sentire davvero quello che accade a chi anche magari come me è lavorato e quindi che cosa prova che cosa si sperimenta c'è effettivamente quel quid in più e devo dire ecco che grazie a questa cosa io mi sono ulteriormente convinta della bontà dello strumento non posso dire tranquillamente che quelli che sono credo ognuno ogni terapeuta che lavora da tanti anni ha fatto tante terapie nel corso della sua vita per essere al meglio psichicamente per essere anche in una resa efficace ed efficiente con i propri pazienti e posso dire che ritornando sui gli storici temi della mia vita come come persona dove ogni volta che ritorniamo sappiamo che li affrontiamo diversamente eccetera quindi è così che funziona però posso posso dire che questa ripulitura questa ripulitura questo senso di nuova prospettiva questa possibilità della leggerezza nonostante il tema lo stimolo attivante intenso importante l'ho percepita a pieno e questo mi ha dato ulteriormente la possibilità sia di continuare clinicamente ad esercitarlo da professionista cosa che quindi è avvenuta più agevolmente che nel corso di questi due anni quindi dall'inizio che iniziare a introdurre nel mio modo di lavorare nel mio modo di insegnare quindi andiamo a quello che tu stavi dicendo chiaramente questi questi spunti questi concetti considera che nel nostro approccio noi lavoriamo sui vari livelli dell'esperienza quindi il livello sensorio il livello corporeo il livello emotivo immaginativo e razionale quindi la parte cognitiva con le sue due aspetti relazionale e quindi nel tutto quello che l'approccio che è proprio il mio tema i miei moduli tutto il livello sensorio ed emotivo affettivo man mano si arricchiva le mie lezioni si arricchivano ovviamente dell'ulteriore integrazione che io ho vissuto e quindi iniziavo a portare loro il fatto che oltre la modalità che c'era anche un approccio un modo di lavorare che oltre le MDR si andava a quelli che erano quelli che poi noi affrontiamo moltissimo cioè i traumi dell'attaccamento quindi questo ho iniziato a portarlo a portarlo come un'aggiunta un in più a quello che erano i programmi e sempre di più perché noi sappiamo che più una cosa diventa salda in noi e vediamo che è buona più abbiamo voglia che altri possano farla e acquisirla e lavorarci bene e quindi sia nella scuola che soprattutto con il mio staff perché io ho la fortuna di perché appunto avere tanti colleghi docenti didatti che lavorano con noi anche di essere il direttore sanitario di un centro clinico e quindi anche al mio centro clinico ho proprio chiesto questo ultimamente ai miei colleghi di poter integrare questa formazione perché adesso io so che quando arrivano i casi di persone con alcune situazioni specifiche io come direttore sanitario faccio un orientamento ho più piacere ho più tranquillità ad affidare quel caso ad una persona che so che lavorerà benissimo ma che in più ha quella che io definirei una marcia in più in questo momento ok e quindi sì sia come staff che anche come scuola di psicoterapia sono stata lieta nel vedere insomma che tu mi hai mi hai come dire accolto questo tipo di proposta che abbiamo insieme un po' poi definito che è proprio quella di poter essere partner in qualche modo quindi la nostra scuola di psicoterapia ha piacere di affiancarsi in questa conoscenza del DBR intanto per i nostri anche insomma e quindi in Italia perché poi un pochettino questo escono dei terapeuti che hanno già una modalità un modo innovativo innovativo sì 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 assolutamente anche io sono molto molto felice e grato per questa collaborazione perché innanzitutto è una cosa diversa dal solito è una cosa innovativa di per sé e a me le cose innovative piacciono molto quindi l'idea di poter e fa parte proprio dell'identità di evoluzione psicologica perché integrare un metodo come il DBR all'interno di una formazione del terapeuta ecco io credo che in prospettiva anche di lungo termine possa rendere lo studio e l'applicazione del DBR ancora più efficace proprio per quello che dicevamo prima perché non è solo il metodo in sé ma è la formazione a 360 gradi di un clinico quindi è bello sapere che in una scuola di psicoterapia si inizia a fare questo si inizia a fare col DBR che dal mio punto di vista è lo strumento attualmente migliore dal mio punto di vista proprio perché riesce ad arrivare a un livello di profondità e di efficacia e di sicurezza che io non ho mai trovato in nessun altro metodo Diego mi sono appuntata mentre tu parlavi perché mi era poi sfuggito rispetto a quello che tu avevi detto prima sì proprio questo discorso della tecnica inserita nella io su questa cosa tu lo sai ne abbiamo parlato in altri momenti sono ecco sono molto io sono morbida sono integrata su questa cosa sono molto ferma ritengo davvero che non questa qualsiasi tecnica bellissima meravigliosa prima parlavamo no qualsiasi tecnica qualsiasi sia importantissima ma può essere qualcosa di persino pericoloso se non è inserito in quello che è il giusto training di un professionista quindi d'altronde sono tecniche specialistiche tecniche e quindi veramente lo ritengo una cosa meravigliosa se poi le persone possono approdare a diventare o no anche terapeuti di BR ognuno ma che comunque questa modalità questa possibilità sia inserita in una cornice all'inizio perché noi sappiamo che più esperienza hai più in qualche modo anche l'eclettismo va benissimo diventiamo tutti un po' eclettici ma soprattutto nel training quando ancora c'è bisogno di certezze e il rischio è che una tecnica mi porti via dall'altra e l'altra dall'altra ancora e quindi alla fine questo tipo di unitarietà della situazione si va un po' a perdere quindi sì penso sia davvero importante ma anche che ognuno che si iscriverà che farà il corso e possa mentre sta facendo le sue cose fare un po' quello che ho fatto che ho provato a raccontare io faccio un po' l'integrazione non so il mio è il ciclo del contatto dove vedo l'orientamento dove vedo l'attenzione dove vedo l'affetto e come ci lavoravo e cosa adesso in qualche modo non mi non mi destruttura il mio modo il mio metodo ma è un'aggiunta ed è un miglioramento laddove è necessario non è che non lavorerò più in un altro modo esatto sì sì un'integrazione coerente con potere poi anche fare una selezione ovviamente non è che tutti adesso faranno solo quindi questo lo ritengo importante poi un'altra cosa che mi ha credo che ci ha un po' fatto incontrare le terapie di nuova concezione no? ecco tu porti avanti voi portate avanti questo io credo che quando io parlo molte volte le persone vengono mi dicono è una scuola gestaltica io dico no non è una scuola gestaltica ce ne sono buonissime scuole gestaltiche la nostra è una scuola dove gestalt sta come parolina a dire è più della somma delle parti e quindi è umanistica gestalt rende benissimo l'idea di questo in più di questo diverso che viene fuori ma poi è una scuola veramente di integrazione dove tutti i livelli dell'esperienza sono considerati di uguale dignità l'approccio è prevalentemente bottom up ma senza nessuna preclusione al top down che ovviamente risignificare narrare eccetera sono importantissimi come punti e quindi ecco credo che terapia di nuove concezioni lo psicoterapeuta in qualche modo integrato che non storce il naso rispetto ad un'altra parrocchietta ecco questa è una cosa che per me è molto importante io dico sempre agli allievi che dicono ah quello è di quell'altro approccio e beh la cosa meno male perché c'è quel modo c'è quello c'è l'altro e l'essere umano ce li abbiamo tutti dipende poi se tu sei più approcciabile qui ed ora con il livello sensorio con il livello cognitivo con il livello immaginativo è uno strumento per il terapeuta ma l'essere umano quei livelli ce li ha tutti e sono tutti importanti sì 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 assolutamente concordo pienamente spesso ci ritroviamo a dire le stesse cose utilizzando vocabolari diversi convinti di dire cose diverse questo io non ho mai capito questo il conflitto tra orientamenti tant'è che mi sono avvicinato da subito al concetto di psicoterapia integrata poi anche quello ecco anche nel tempo poi si potrebbe argomentare anche il discorso della psicoterapia integrata che secondo me anche lì possiamo trovare possiamo andare incontro a delle evoluzioni importanti però già questo che sta emergendo adesso lo ritengo davvero centrale per una nuova concezione di psicoterapia perché l'innovazione l'integrazione diciamo degli orientamenti storici degli adattamenti attuali e delle integrazioni con metodi di ultima generazione per esempio come il DBR ecco penso che possa essere penso che siano le fondamenta per costruire la psicoterapia che dal mio punto di vista non è ancora nata è interessantissimo questo lì se mi dai il là non me lo dare sennò l'intervista poi non termina più però sì sono interessatissima a poter insomma dialogare su questo ecco molto molto importante tutto questo assolutamente d'altronde dico è importante andare avanti quindi tutti tutti quelli che sono le basi teoriche i grandi maestri eccetera sono tutti importantissimi è un'eredità importante meno male che c'è poi chiaramente si va avanti nell'andare avanti è un riconoscere quello che c'è stato e tutto quello che arriva per cui è chiaro io dico sempre non è che anche nelle aule non è che possiamo fare anche se il titolo può essere simile la lezione di dieci anni fa perché nel frattempo per fortuna sono accadute tante altre cose ci sono tante altre innovazioni quindi se la lezione sull'attaccamento ecco era in un certo modo anche verso psicoterapia come fattore comune delle psicoterapie dieci anni fa è chiaro che oggi ecco parliamo di DBR che sull'attaccamento dell'attaccamento fa qualcosa quindi il trauma dell'attaccamento per cui assolutamente questo è per me quello che forse mi rende dopo trent'anni ancora così innamorata e appassionata sia di questo lavoro quando sono qui studio e faccio il clinico che quando sono nell'aula e faccio il formatore agli colleghi ma con una grande veramente responsabilità che è quella di trasmettere prima di tutto la passione per la conoscenza per l'innovazione e l'amore per per la presenza terapeutica ecco questo è quello che credo mi caratterizzi sì sì vuoi dire qualcosa in più su il il modello della SIPG diciamo che un po' così tra le righe qualcosa l'ho detto è una la nostra scuola appunto si basa sul modello dell'integrazione quindi integrazione sia teorica che tecnica quindi la SIPG parte dall'integrare dei modelli umanistici quindi dall'approccio rogersiano all'appunto gestalt all'analisi transazionale quindi poi ecco le teorie il lavoro sul trauma anche con l'ego state therapy è stato abbastanza vicino anche quello è conseguenziale il lavoro sul corpo come fattore comune negli ultimi anni la mindfulness sicuramente che noi amiamo e abbiamo sempre amato chiamare di più meditazione perché in realtà il nostro orientamento essendo molto collegato con la gestalta anche all'oriente eccetera diciamo la meditazione è sempre stata molto presente quindi non come meditazione ovviamente di tipo religioso e trascendentale ma come l'elemento centrale che è poi quello che la mindfulness messa sposa ed è appunto quello della della presenza in gestalt noi lavoriamo sul continuum di consapevolezza il continuum di consapevolezza è l'essere presente momento per momento ed è un modo per ritornare al presente quando magari ci stacchiamo ecco nella nostra scuola gli approcci cardine quindi approcci emotivi quindi la gestalt con l'emozione in figura Rogers con la parte affettiva e accudente e l'analisi transazionale che è affettivo ma cognitivo quindi aiuta anche maggiormente la comprensione dei processi e la spiegazione e vengono poi queste sono quelle che sono integrate sia a livello teorico perché hanno una matrice comunque un alveo umanistico teorico e tecnico e poi abbiamo l'integrazione che è un'integrazione più tecnica invece di modelli che sono non dell'area umanistica ma importati del cognitivismo di terza generazione e così come appunto dicevo gli approcci corporei e l'integrazione quindi è prevalentemente teorica ma non disdegna l'integrazione tecnica il il modo in cui il terapeuta SIPG si forma è quello di essere un terapeuta che può ecco e così magari mi sintetizzo in questo è un terapeuta che ci auguriamo e ci impegniamo affinché sia capace di poter essere cognitivamente presente in un piano di lavoro in un piano di trattamento e essere presente nella relazione terapeutica con amorevolezza con amore per l'altro amore per sé senza perdersi di vista e quindi stando nel campo che è il concetto poi chiave e e devo dirti proprio così in una maniera più discorsiva in questo momento l'altro giorno abbiamo avuto delle specializzazioni della scuola di psicoterapia e la bellezza è vedere che cosa che c'è commozione emozione che l'auditorio si commuove ma non è solamente la commozione per una storia ma è quella commozione che nello stesso tempo diventa rispetto stima per la capacità di un professionista di parlare di cose importanti impegnative mentre potendo portare sé come persona anche con un occhio lucido ma che non fa perdere il filo alla narrazione non fa andare via dall'obiettivo perché la persona è cresciuta nel sapere nel saper fare ma in quel saper essere che per noi è poi il centro quindi per ora ti dico solamente questo lavoriamo molto con l'esperienza c'è teoria c'è esperienza ogni weekend c'è supervisione costante e attenzione alla ricerca noi abbiamo un gruppo network ricerca molto impegnato e ben guidato da Raffaele Sperandeo e devo dire che forse credo che comunque è tra una di quelle scuole che prima ancora che il Biur inserisse questo adesso è inserito nei programmi era già avanti quindi nel proporre e nell'inserire gli allievi in progetti di ricerca quindi anche farli uscire già con delle pubblicazioni ma al di là della pubblicazione proprio come metodo e anche anche lo psicologo lo psicoterapeuta può fare ricerca che poi in realtà la facciamo nei nostri studi ogni giorno chiaramente con dei metodi appropriati a quello che è il nostro campo di osservazione e di indagine molto bello molto interessante bene quindi se ci sono degli psicologi dei medici che vogliono iniziare un un percorso di psicoterapia una scuola di psicoterapia di ultima generazione beh la SIFG ecco questo oggi è in grado di di offrirlo anche prima del DBR ecco questa questa descrizione è molto interessante siamo presenti sia in in Tampania che in Sicilia e sì adesso siamo proprio insomma all'inizio della della nuova annualità e come hai detto tu sì ci siamo da da anni dal 2007 avendo sempre un occhio attento all'innovazione ecco e oggi in questo momento stiamo parlando proprio anche del DBR sì sì che di per sé è già una innovazione e poi integrata all'interno di una scuola di psicoterapia ecco ancora più innovativa perché gli studenti della della SIFG faranno la formazione in DBR e usciranno anche con il titolo di terapeuta in DBR quindi questo è veramente un qualcosa di innovativo io non ho trovato altre volte cioè magari si fanno alcune formazioni ma non così specifiche e non così integrate all'interno di un modello con una coerenza teorica e tecnica questa è veramente la cosa importante che fa la differenza io ti ringrazio molto Elena per questa intervista per questo spazio io ringrazio sempre a te Diego per appunto anche queste opportunità perché poi quando cresciamo tra virgolette o invecchiamo insomma è veramente molto molto importante potersi appassionare a nuovi progetti integrare nuove situazioni ecco scambiare soprattutto e diciamo anche che il gruppo DBR adesso in Italia che comincia a essere più consistente insomma a me piace anche avere poi magari non messaggio ma mi piace anche avere il whatsapp tra noi terapeuti DBR in Italia ecco è una una bella cosa che ci inserisce ci allarga rispetto al nostro ecco alle nostre conoscenze ai nostri colleghi di vecchia data è una bella opportunità e tu sei molto attento a curare questo a curarci ecco a coccolarci anche quindi io ti ringrazio anche per questo grazie questa tua attenzione grazie poi da adesso in poi quindi dal 2021 in poi dalla fine dall'inizio del 2022 ecco le cose dovrebbero essere ancora più strutturate quindi io dovrei riuscire a esserci ancora di più rispetto a quello che sono riuscito a esserci in questi due anni perché diciamo c'è stato da preparare tutto il progetto tutta la struttura per cui ecco però l'ora in poi ecco l'idea è quella l'intento è quello di essere ancora più presente ancora più presente per tutti quanti per i terapeuti per i pazienti c'è il sito ufficiale sulla formazione sui terapeuti dbr che è www.deepbrainerorienting.it dove potete trovare l'elenco dei terapeuti italiani formati in dbr e per i terapeuti che sono interessati alla formazione dbr trovate anche tutte le specifiche per la formazione e quello che dicevi tu del gruppo ecco chi poi diventa terapeuta dbr viene inserito in un gruppo whatsapp dove sono presenti tutti i terapeuti dbr quindi possiamo dialogare tra di noi oppure se c'è bisogno di fare degli invio e degli invi questo è molto importante esatto in modo tale da costruire una rete per portare avanti insieme ecco il dbr e ho preparato anche un primo livello formativo gratuito sul dbr che è il mini corso gratuito che lascio il link in descrizione lascio il link anche della della cipg qui sotto e quindi ecco se volete iniziare a formarvi in dbr c'è questo link per questa formazione gratuita se volete maggiore informazione sulla cipg avete i riferimenti che metto qua sotto e se volete vedere il link dei terapeuti italiani anche qui metto il link trovate tutto qua sotto lascio concludere a te lascio chiudere a te questa intervista beh io concludo semplicemente appunto ringraziandoti di nuovo e invitando veramente ma con grande convinzione ecco con grande convinzione invitando i colleghi terapeuti a a conoscere intanto a conoscere questo questo nuovo modo di poter approcciare nel nostro modo di lavorare quindi ognuno ha il suo però ecco di potere anche conoscere quest'altra possibilità che sicuramente porterà almeno per me è stato così quindi ecco concludo dicendo questo per me è stato così porterà sicuramente quel pizzico in più o tanto in più per me è stato un buono in più per portare avanti quelli che sono i lavori a volte con delle associazioni con delle situazioni importanti non approcciabili a volte con altre modalità pur da noi conosciute quindi invito veramente ad aumentare questo gruppo di persone curiose appassionate alla psicoterapia che è molto bello io penso ci sia sempre bisogno abbiamo sempre bisogno di persone innamorate del proprio lavoro quindi ti ringrazio ti ringrazio tanto Diego grazie a te e grazie a chi ci ha ascoltato grazie a tutti